...senza garanzia che sono andate qua dentro nelle tasche di Fiorano... ...vecordiamo! Noi oggi siamo qui per dire, occupatisa da Piana Percola, movimento che si è ripreso gli spazi, la libertà contro lo sfruttamento del debito, un movimento che dice basta mettere le nostre vite in vendita per pagare i debiti ai palazzinari, ai banchieri, agli speculatori, oggi con lo scontro avvenuto alle sette di mattina da parte di decine e decine di carabinieri il giorno dopo la presentazione dell'esposto alla magistratura dove si diceva indagate su questi stronzi che ci rubano dalla mattina alla sera, che ci tagliano... ...vergogna, vergogna, 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 vergogna!